buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di non mi rassegno la rassegna stampa commentata italia che cambia che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti vi racconta quali sono le notizie più importanti della giornata leggendo assieme a voi e commentando assieme a voi alcuni articoli di giornali italiani e internazionali allora nella puntata di oggi parliamo di social street di come stanno reagendo alla situazione coronavirus della borsa e del crollo delle azioni del petrolio del perché questa cosa era in qualche modo prevedibile della modifica di putin alla costituzione e di chi sarà lo sfidante ormai quasi certo di trump nelle elezioni politiche americane di novembre prossimo allora partiamo con una segnalazione sul tema coronavirus l'altro ieri parlavamo della necessità di trovare degli spazi virtuali di condivisione in un momento in cui la paura viene viene resa ancora più drammatica dall'impossibilità di avere un contatto diretto con le altre persone quindi anche dall'isolamento e dalla solitudine ecco chi potrebbe fare una cosa del genere ovviamente uno dei principali candidati sono le social street e ovviamente non c'era bisogno di suggerirsi io perché ci hanno già pensato ne parliamo proprio oggi su italia che cambia per chi non conoscesse le social street vi lascio la storia in cui insomma con la video intervista che gli abbiamo realizzato ma ad ogni modo per riassumere in 30 secondi si tratta di gruppi facebook che uniscono le persone che vivono nella stessa via e che praticamente trasformano il social network che nel luogo comune ma poi a volte anche vero è qualcosa che ci isola e ci impedisce di comunicare realmente di conoscere realmente le persone e appunto lo trasforma in un modo un escamotage per conoscere poi nella vita reale i propri vicini di casa e quindi anche farsi favori fare uscire insieme insomma quindi è un modo per ribaltare il concetto e trasformare facebook in uno strumento di conoscenza diretta bene allora in questa situazione che cosa hanno fatto le social street hanno pensato bene di usare questa sorta di community virtuale e reale che hanno creato negli anni per starsi vicino e quindi sia come strumento di supporto psicologico reciproco mutuo aiuto ma anche per aiutarsi nelle cose pratiche di tutti i giorni ad esempio alcuni si sono organizzati per andare a fare la spesa per le persone più anziane o a comprare i farmaci o pagare le bollette e insomma diciamo è un modo virtuale ma anche molto molto pratico per starsi vicino e supportarsi in questi momenti di difficoltà tra l'altro nell'articolo oltre all'esempio delle social street parliamo anche di altri esempi di altri gruppi che stanno nascendo in questo momento proprio con lo scopo di appunto di ascoltare anche gli aspetti più emotivi e le paure che normalmente nascono in queste situazioni segnalo anche sempre sul tema del coronavirus più o meno oggi ci giriamo un po attorno al tema un articolo interessante sul blog di Uriel Fanelli che è un personaggio abbastanza discusso che in questo caso però ragiona sulla crisi in borsa seguita al crollo del prezzo del petrolio dell'altro ieri e lo fa appunto in maniera originale abbastanza interessante il ragionamento il seguente è probabile che molti investitori stessero aspettando il momento giusto per vendere azioni derivate legate al petrolio visto che il futuro sta andando in un'altra direzione vuoi le elettriche vuoi i tetti alle missioni insomma il coronavirus e il blocco temporaneo agli spostamenti la guerra dei prezzi fra Arabia Saudita e Russia potrebbero essere solo degli aspetti superficiali di una crisi inevitabile e tutt'altro che transitoria del mercato del petrolio e che anzi potrebbe nel prossimo futuro riguardare anche il carbone il gas naturale diverse materie prime e così via al di là di questi di questi aspetti qua il vero rischio in questo momento potrebbe essere invece l'esplosione della bolla di lizia ne parlavamo qualche giorno fa in una puntata dedicata a questo argomento se volete andate a ripescare magari anzi ve la lascio anche fra gli articoli di oggi perché che succede c'è questo fenomeno di bolla di lizia in corso in tutta Europa in realtà anche in altre parti del mondo però adesso il mercato potrebbe essere tirato giù dall'assenza di turismo che lascia vuoti tutti gli appartamenti che venivano affittati con Airbnb e per adesso sta reggendo per adesso il mercato sta reggendo però se i proprietari di casa iniziassero a vendere questi appartamenti vuoti il mercato sarebbe invaso da un'offerta di appartamenti appunto quindi i prezzi crollerebbero e si genererebbe un meccanismo simile a quello che si è generato nel 2008 che poi ha dato origine alla famosa crisi economica finanziaria i cui effetti si sono sentiti anche negli anni successivi e vi lascio comunque tutti gli articoli per approfondire anche questo tema allora spostiamoci in Russia perché vi ricordate la storia di Putin che stava cambiando la costituzione per poter restare al potere ne abbiamo accennato qualche giorno fa sembrava che volesse ridurre il potere del presidente che è il ruolo che lui attualmente ricopre in favore del parlamento e questo perché lui non poteva essere più il presidente perché aveva esaurito i mandati poi ha inserito all'interno della riforma anche degli strani riferimenti come il divieto esplicito ai matrimoni omosessuali il divieto per la Russia di cedere qualsiasi territorio che quello era probabilmente un riferimento alla Crimea l'inserimento di dio nella costituzione visto che la chiesa ortodossa è un grande alleato di Putin cosa che però ha fatto molto discutere in un paese di tradizione comunista dove chiese e stato sono tradizionalmente molto separate anzi anche agli antipodi per molti aspetti ecco fino a ieri tutta questa operazione secondo molti analisti doveva servire principalmente a sollevare volutamente le polemiche all'interno di questa riforma sostituzionale inserendoci appositamente dei temi scottanti per avere un duplice obiettivo il primo era quello appunto di non accendere i riflettori su quello che era il vero obiettivo della riforma che era appunto permettere a Putin di continuare a stare al potere per altri anni nonostante la fine del ufficiale del suo mandato e il secondo era anche attirare l'attenzione delle persone su sul tema della riforma costituzionale e avere più persone che andavano a votare perché appunto tutto questo appunto con l'obiettivo di comunque inserire da qualche parte in qualche meccanismo una qualche clausola o un qualche cambiamento che permettesse a Putin di continuare ad essere a stare al potere in Russia perché la situazione al momento è questa Putin nel 2024 esaurirà il secondo mandato consecutivo come presidente quindi 12 anni in realtà a ben vedere Putin è al potere da molto più tempo perché è presidente praticamente in maniera quasi interrotta dal 1999 solo che nel 2008 allo scuadere del suo secondo mandato da presidente che ai tempi durava quattro anni qui spinse la candidatura del suo di un suo fedele diciamo medvedev che divenne presidente mentre Putin passò da presidente a primo ministro ma di fatto insomma continuava a tutti gli effetti a governare poi nel 2012 alle successive elezioni tornò di nuovo in sella riprendendo la carica di presidente dopo averla allungata da quattro a sei anni con una modifica costituzionale e così arriviamo al 2024 quindi quando scadrà il secondo mandato di Putin consecutivo di nuovo a presidente e dovrà inventarsi qualcosa per poter restare al potere perché evidentemente non è ancora soddisfatto e fino a ieri molti si aspettavano appunto un qualche lavoro di fino qualche spostamento negli equilibri costituzionali che gli permettesse un po come aveva fatto nel 2008 di assumere un'altra carica che non fosse quella di presidente ma al tempo stesso di spostando gli equilibri dello stato di mantenere il suo ruolo di leader indiscusso della della russia e in realtà la mossa è stata molto più semplice e anche abbastanza sconcertante perché ieri il parlamento ha approvato un emendamento in questa proposta di riforma costituzionale che poi dovrà essere validata da un referendum che di fatto azzera il conteggio dei mandati di Putin consentendogli di farne altri due e quindi estendendo potenzialmente di altri 12 anni la sua presidenza quindi è una sorta di trucchetto nel senso che si va a intervenire su quel punto della riforma che prevede un limite complessivo di due mandati per ciascun presidente presente rendendolo valido solo dall'approvazione della nuova riforma costituzionale in avanti e quindi escludendo nella retroattività il che vuol dire che è come se tutto quello che è successo fin qui non non contasse più tra l'altro come ha notato il guardian di fatto le uniche due persone interessate all'emendamento sono Putin e Medvedev visto che l'unico altro leader russo a essere stato presidente per due mandati di fila è stato Boris Yeltsin che però è morto nel 2007 e quindi ecco diciamo che dopo la conferma della corte costituzionale che è considerata una formalità ci sarà un referendum che a fine aprile dopodiché se tutto come prevedibile dovesse dovesse passare Putin eventualmente dovrà ovviamente avere il bisogno del consenso popolare quindi essere eletto ma la popolarità di Putin in Russia non sembra al momento essere in discussione quindi non è effettivamente una sua preoccupazione quindi ecco svelato il piano di Putin era più semplice e più banale di quanto si potesse pensare va bene ultima notizia flash prima di chiudere perché abbiamo già fatto tardissimo ci spostiamo negli Stati Uniti dove Joe Biden con la vittoria di ieri ha praticamente messo il sigillo sulla candidatura alle presidenziali del prossimo novembre sarà lui con tutte le probabilità anzi è quasi sicuro a sfidare Donald Trump mentre vede svanire le sue ultime chance di vittoria Bernie Sanders probabilmente il candidato più socialista che abbia mai rischiato di competere per la Casa Bianca va bene? anche per oggi è tutto io vi saluto e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di un mi rassegno sempre al 10 sempre per 10 minuti e vi ricordo anche oggi come ogni giorno che chi si rassegna è perduto ciao